Buongiorno a tutti. Un video questa volta a breve per due notizie soprattutto. La prima è la presentazione di un libro, di un audiolibro, che posterò in parte tra poco, appena finito di fare questo video. Si tratta di un libro di Lessig, di cui ho già accennato, il cui titolo è Cultura libera, sottotitolo, un equilibrio fra anarchia e controllo contro l'estremismo della proprietà intellettuale. Un libro dove ho ricevuto molte informazioni, tra l'altro informazioni molto documentate, fatte da chi ci lavora nella materia. Lessig è un avvocato, docente di legge in America, sulla situazione del copyright in America e su come è andata estremizzandosi la normativa sul copyright. Continua ad andare estremizzandosi, cioè a porre sempre limiti sempre più grandi. Ma, diciamo, sulla necessità, lui dice anche di salvaguardare il copyright, cioè di salvaguardare i diritti di chi ha prodotto dei lavori intellettuali. E quindi di trovare un equilibrio tra le due cose, mentre attualmente tutto si sta spostando verso la tutela del copyright, anzi arrivando in America a, come dirà, delle prologhe della durata del copyright di vent'anni in vent'anni, le quali poi sono sostenute, sono fatte dal governo, ma sono sostenute, alimentate da interessi degli eredi, diciamo così, a mantenere il copyright per un tempo infinito. E quindi togliendo molte opere dalla possibilità di essere usate dal pubblico liberamente. Perché poi accanto al copyright si inserisce anche il fatto che queste opere diventano inaccessibili e la cultura anche di adesso è fatta di sovrapposizioni, no? Di mettere insieme opere diverse, categorie diverse e costruire sopra. Il libro questo lo dimostra molto bene, quindi non sto a spiegarvelo. Ho letto e ho fatto un audiolibro che metterò soltanto delle conclusioni e della postfazione. Sono già quasi due ore di audiolibro. Se poi interesseranno questi argomenti, magari potrò farne la lettura integrale del libro, che è piuttosto lunga, ma anche molto ben documentata. È interessante capire come si è arrivati, anche come è stata l'evoluzione nel tempo di questa materia. E poi mi sono reso conto di un'altra cosa, dell'importanza di questa materia. Cioè quanto il copyright poi influisce sulla possibilità di crescere da parte della cultura. Cioè quanto sia un limite alla crescita culturale, che vuol dire anche comprensione del mondo, avanzamento della capacità di critica da parte di tutti, no? E quindi quanto possa essere importante la lotta per una cultura libera, anche se regolamentata, e quanto questa lotta poi sia una lotta che può avere dei risvolti molto più ampi di quello che si crede, possa interessare molto di più di quello che si crede. Perché poi il copyright è esteso, come dire, a tutta la cultura musicale, teatrale, insomma, a tutto quello che ha la stessa elaborazione del software, insomma. Quindi sono settori che ci interessano moltissimo alla letteratura. E come lui dice, tra l'altro, ci sia la volontà di rendere fumosa questa cosa. Perché quando è fumosa, quindi quando non si sa bene l'ambito in cui ci si può muovere, e le penalizzazioni per degli errori di movimento, in questo caso, per delle mosse errate, è molto grave, è molto importante. Soprattutto poi c'è molto spazio per gli avvocati, insomma, no? I quali costano tantissimo e sono un ottimo pabulum, trovano un ottimo pabulum per lavorare in questo settore. E quindi uno, anche quando non avrebbe motivo, in qualche modo si astiene dal fare, e quindi anche dal fare cultura, insomma, no? Perché spesso nel fare cultura ci si appoggia a qualcosa di preesistente, no? Come chi elabora il software non parte ogni volta da zero, insomma, parte da qualcosa che magari è già stato fatto. Certe regolamentazioni poi portano all'immobilità. Bene, molte cose si potranno conoscere, e soprattutto molte dinamiche, anche capire aspetti che non, diciamo, in un'analisi superficiale possiamo fare per conto nostro, spesso non risultano. Ecco, lui ha scritto questo libro che io giudico molto interessante, anche perché è equilibrato, insomma, non è un estremista, è un moderato, uno che vuole comunque salvare il diritto al creatore di fare un suo guadagno, ma vuole, diciamo, limitare questo diritto, farne un uso razionale, insomma, farne capire quando è utile e capire quando invece è dannoso. E quindi molte riflessioni in questo libro saranno fatte. Sotto questo video vi metterò il link dove potrete scaricare gratuitamente da Liber Liber l'ebook. Se volete leggervelo per conto vostro, la cosa può essere molto utile e interessante, e soprattutto non costa niente, perché lui questo libro non lo ha protetto, come mi pare giusto che abbia fatto. Tanto per darvi un esempio, insomma, del copyright, e delle limitazioni che comporta, anche semplicemente nel mio caso, vi faccio l'ultimo esempio che mi è capitato. Qual è? Io sono affezionato a un libro che ho letto quando avevo meno di vent'anni, diciamo così, nella mia giovinezza, che sono Don Milani, lettera una professoressa. L'avevo comprato, poi l'avevo anche riacquistato, e mi sarebbe piaciuto, anzi, l'avevo anche fatto, poi l'ho tolto, farne un audiolibro, insomma, no, e pubblicarlo, insomma, questo audiolibro, visto che l'ho anche letto, insomma, no, ce l'ho lì, l'ho tolto, l'ho dovuto togliere dopo quella comunicazione di cui ho già parlato. Ho cercato di seguire le vie ufficiali, no, e quindi ho cercato di risalire a chi era a chi era il titolare, insomma, dei diritti di questo libro, per poter chiedere come fare a pubblicarlo. Tre parentesi, la mia riflessione era Don Milani ha fatto queste cose, diciamo, in maniera pubblica, no, per far capire, per parlare alla gente dei suoi ragazzi, l'ha fatta con dei ragazzi, e non l'ha fatta per scrivere un libro così, ma l'ha fatta per fare una specie di denuncia sociale, di dire come dovrebbe essere la scuola, quindi, diciamo, un discorso che si apriva al mondo, no, e ho immaginato Don Milani avrebbe voluto proteggere col copyright questo libro, questa lettera. Ho detto, no, non è possibile, cioè, se protegge lui un lavoro di questo tipo, che poi è un lavoro collettivo, no, fatto tra lui e i ragazzi, no, se Don Milani avesse voluto proteggere questo libro con il copyright, sarebbe venuto meno all'idea che mi sono fatto di Don Milani, un personaggio aperto, che non ha chiusure, che non mira al denaro, all'interesse, no, e questa è l'idea che io ho di quest'uomo, che ha fatto della sua vita una missione, insomma, no, e quindi anche la missione di aprirsi, no, di denunciare quello che andava denunciato. Non vedevo la possibilità che questo lavoro, lettere a una professoressa, potesse essere limitato nel suo uso, che ci fosse una chiusura rispetto a questo libro. Allora ho detto, vabbè, insomma, questa volta seguo le vie ufficiali e chiedo il permesso. La prima cosa che ho fatto è stata contattare, diciamo, la figlia di uno dei suoi allievi, che era venuta qui anche a presentare un libro, sempre un po' sulla scuola di Barbiana e su queste cose qua. E quindi, siccome era la figlia di uno, diciamo così, di quelli che hanno collaborato a scrivere un libro, e ho detto, ma, senta, cosa è possibile fare per... vorrei fare un audiolibro, cosa è possibile fare? E lei mi ha detto, ma io non posso dire niente, contatta le Edizioni Fiorentine. Tanto per non fare nome, ma comunque, insomma, le Edizioni Fiorentine sono quelle che... Ho provato a scrivere una lettera alle Edizioni Fiorentine. Questa lettera l'ho scritta un po' prima di Pasqua, mi pare. Quindi siamo verso la metà di aprile e ho scritto... Ho scritto queste parole, aspettabile editrice, insomma, vabbè. Su consiglio di Sandra Gesualdi, che appunto è la figlia, mi rivolgo a voi per capire se posso pubblicare come audiolibro la mia lettura integrale di lettera ad una professoressa di Don Milani. Nel caso fosse ancora sottoposto a diritti, vorrei conoscere quale può essere la procedura o le condizioni per poterne pubblicare la lettura. Allora mi è stato risposto che il responsabile sarebbe tornato dopo il 2 maggio. In realtà io ho cercato, ho aspettato, quindi una quindicina di giorni e dopo il 2 maggio non è successo niente. E siamo arrivati verso la fine di maggio. Oggi siamo al 31. Verso la fine di maggio, visto che ancora non ricevevo niente, ho rimandato una seconda mail. Dopo qualche giorno, insomma, mi è ritornata con una risposta. E la risposta era questa, che leggo testualmente, che vale la pena leggere nelle parole. Buonasera, signor Zanardi. Ho parlato con l'editore Giannozzo Pucci, che fa presente quanto segue. Lettera a una professoressa sottoposta a diritti, fino al 2037. I titolari dei diritti sono divisi. Ci sono titolari legali e titolari morali. Attualmente non c'è un soggetto unico che li esercita. C'è chi li ha avuti da Don Milani e di conseguenza li esercita. Ma per i nuovi, al momento, non c'è chiarezza. Questa è la fine. Allora, e io cosa posso pensare? Qual è stata la risposta che mi ha dato? La mia domanda era, nel caso sia ancora sottoposta a diritti, vorrei conoscere qual è la procedura o quali sono le condizioni per portarne a pubblicare la lettura. In base a questa risposta, io non posso comunque pubblicare la lettura. Non mi è stato detto che non posso farlo, ma la risposta che mi è stata data è che i titolari sono tanti. Ci sono titolari legali e titolari morali. Attualmente non c'è un soggetto unico che li esercita e quindi, non sapendo chi li esercita i diritti, non posso averli o acquistarli. Ma in realtà, questo libro è bloccato dal copyright fino al 2037. Quindi, insomma, tu questo libro non lo puoi usare per farne un audiolibro, neanche pagando, neanche acquistando in questo modo questi diritti oppure, che so io, insomma, cedendo una parte, non lo so, visto che l'avrei pubblicato gratis, non so cosa avrei potuto cedere, ma in realtà non c'è. Ecco, questa è un po', diciamo, sintetizza qual è l'effetto poi, no, del copyright nella cultura. Don Milani è morto nel 67, quindi siamo a 50 anni e passa di distanza dalla morte. Questo scritto, che è di interesse comune, che serve anche per, come dire, per avere, per farsi un'idea della scuola, di quello che dovrebbe essere la scuola, di come possa essere vista come un ideale anche di vita, no, di comportamento pratico. E sicuramente, penso io, Don Milani non l'avrebbe tenuta chiusa in un cassetto, insomma, l'ha fatta perché non sia chiusa in un cassetto, perché non sia limitata e perché non sia soprattutto una fonte di guadagno per chi? Per chi non l'ha scritta questa lettera, per chi non l'ha fatta. Ma in realtà chi vuole usarla, ecco, si trova bloccato in questa cosa ed è una cosa di cui parla il libro a cui assennavo prima di Lessig, parla di questa fumosità, di questo volutamente non sapere chi è il titolare dei diritti. A questo propone una soluzione, cioè propone di registrare l'opera e propone che dopo un certo tempo questa opera venga ulteriormente registrata, altrimenti i diritti scadono. E soprattutto di una regolamentazione e anche di quelli che sono gli usi secondari che si possono fare di quest'opera, come un film, come un audiolibro, queste cose qua. Allora, proprio nella non chiarezza c'è poi quello spazio, c'è chi li ha avuti da un milano e di conseguenza li esercita, ma per i movi al momento non c'è chiarezza. Ecco, questa non chiarezza poi è quello che, come dire, o che blocca, chi vorrebbe farne un uso, che potrebbe anche risultare utile tra l'altro all'opera, perché la fa in qualche modo anche riattualizzare, ma nello stesso tempo lo blocca, perché rispetto a questa non chiarezza siamo in mano agli avvocati. E gli avvocati, almeno in America, rischiano di costare 400 euro all'ora e quindi, dice Lessig, nel rischio di finire in mano agli avvocati cosa si fa? Si lascia perdere, insomma, no? E questo, poi, sono la conseguenza del copyright. E allora io trovo che il copyright sarebbe un, o può essere un argomento, una battaglia per una regolamentazione politica del copyright. Cioè, questo è un tema importante, secondo me, che potrebbe essere recuperato da una forza politica che voglia essere anche democratica, insomma, no? Non abolirlo, ma regolamentarlo. Regolamentarlo in maniera sensata, che abbia un senso, che non sia soltanto un limite, un ritorno a una concezione feudale della proprietà. Cosa che, invece, è quello a cui stiamo andando incontro. E questo mi sembra, poi, un esempio lampante, insomma. Questa risposta alla mia domanda, evidentemente evasiva, perché se non lo sa lui, chi lo deve sapere? Chi sono i titolari di questi diritti? E se il diritto non si sa di chi è, è un diritto? Punto di domanda. A questa situazione, come dire, potrebbe opporsi il fatto che ci sia una regolamentazione del diritto, cioè che ha scritto l'opera, dovrebbe anche registrarla. Come si registra un'automobile? Come si registra una casa al catasto? In modo tale che se io ho bisogno e chiedo, come ho chiesto, nel caso fosse ancora sottoposto a diritti, vorrei conoscere quale può essere la procedura e le condizioni per poterne pubblicare la lettura. Ecco, se io faccio questa domanda, so chi è il titolare dei diritti, cioè quello che l'ha registrato, questo diritto di proprietà, e allora a lui mi posso rivolgere e lui non può poi dirmi al momento non c'è chiarezza. Se lo ha registrato, io so che lui è il titolare. Allora mi dirà sì o no, oppure quanto costa, perché quello che viene sottoposto a diritto è, diciamo, un bene, rientra nel valore, il valore commerciale, quindi un qualcosa che può avere un costo eventualmente poterlo acquisire, oppure questo costo si può spalmare, cioè se io lo voglio acquisire per produrre un qualcosa che poi si può vendere, ecco, lui magari potrebbe avere una parte dei proventi. Però quello che ho capito dalla lettura di questo libro di Lessig è l'importanza, l'importanza anche politica e quindi gli interessi che ci sono sotto ai diritti d'autore. e questo riguarda soprattutto la musica, ma anche il software, tantissime cose, non solo l'editoria, anche se pure nell'editoria ci sono interessi importanti sotto. E quindi la lotta non tanto per l'abolizione, ma per una regolamentazione diversa, più umana. Il copyright è partito in America con una regolamentazione e con una durata di 14 anni. In Italia siamo a 70 anni dopo la morte dell'autore. Ma non sappiamo poi cosa succede poi di tutti gli altri, come ho già detto, cioè per esempio dei diritti del traduttore, quanto durano, ci sono, come sono messi. si va anche lì a 70 anni dopo la morte del traduttore, allora la cosa è infinita e non si arriva più, insomma. No, queste cose vanno regolamentate e lo Stato, il Governo, il Congresso in America dovrebbe avere il compito di regolamentare queste cose. Siccome la regolamentazione poi è sottoposta alle lobby, cioè agli interessi costituiti, anche qui insomma la partecipazione democratica, il controllo dovrebbe avere un suo ruolo. Ma sicuramente, diciamo così, è un qualcosa a cui non pensiamo. Ma quando parliamo di libertà, di cultura, che la cultura deve essere libera, deve essere accessibile a tutti, deve essere una cosa che fa parte della democrazia, pensiamo di più, non soltanto a fare più manifestazioni, più biblioteche, ma pensiamo anche oppure a dare più libri alle biblioteche scolastiche, tutte cose buone per carità, ma pensiamo che il nucleo della questione, la parte grossa della questione sta qui, sta nel mantenimento di diritti che stanno diventando sempre più dei diritti feudali, come dice Lessig nel suo libro e come potrete constatare se avete voglia di leggerlo. Un saluto a tutti.